Scritte ovunque, dai muri degli antichi palazzi alle vetrine dei negozi, dai balconi ai portoni d'ingresso delle case. È il paradosso di via dell'apretura a Gallarate, in pieno centro storico e dunque inserita in un contesto cittadino ben curato. Eppure questo vicolo è stato preso di mira, ormai da anni, da aspiranti writers e semplici maleducati che non riescono a resistere alla tentazione di lasciare un segno del proprio passaggio. Nomi, cuori, parolacce e perfino bestemmie, qui si legge di tutto. Una situazione di degrado che sembra peggiorare nel tempo. Residenti e commercianti chiedono all'amministrazione comunale di intervenire per aiutarli a restituire dignità a questa via. C'è uno stato di abbandono soprattutto nel momento serale, nel momento nelle ore notturne, per cui è il rischio di degrado. C'è questo rischio e quindi la necessità di un'accortezza da parte di chi di dovere. Non entriamo noi nel merito, però ci dovrebbe essere e siamo tutti pronti a confrontarci come interlocutori con l'amministrazione o chi per essa. C'è una mancanza di sicurezza, quindi un passaggio di persone che ne fanno di tutti i colori perché sono state trovate bisogni, fanno bisogni nella via, murales si vedono anche fino all'addirittura fino al primo piano, quindi fondamentalmente è una questione di sicurezza, di pubblica sicurezza. Tante le idee per il recupero di via della pretura, una delle più gettonate è quella che prevede la realizzazione di murales artistici che non lascerebbero più spazio agli scarabocchi. In tantissime altre città, non solo italiane ma anche europee, anche più piccole di Gallarate, si creano delle condizioni di benessere culturale e di situazione urbana vivibile attraverso degli interventi nell'ambiente. Uno di questi, che potrebbe essere più vicino alle mie competenze, alla mia sensibilità, è decisamente la street art. Un'altra idea è quella di collocare dei cancelli all'ingresso e all'uscita della via, in modo che almeno di notte possano essere chiusi. Abbiamo sensibilizzato l'amministrazione su questa questione ed è stato proposto quindi l'instaurazione di cancelli, ovviamente per le ore notturne. È chiaro che il problema è un problema anche durante la giornata, e quindi chiediamo anche un passaggio un po' più frequente della polizia locale, perché per esempio l'imbrattamento dei muri viene fatto durante le ore notturne, ma anche nelle ore pomeridiane. A me è capitato più volte di vedere i ragazzini nel pomeriggio che indisturbati imbrattano i muri. L'idea dei cancelli però non convince tutti i residenti. La faccenda del cancello l'avevamo già pensata anche noi perché ce l'ha già stata proposta, però effettivamente già non passa più di più nessuno, perché Gallarate si sta svuotando ormai. Quindi chiudersi dentro in una cosa così siamo fuori dal mondo. Proposta originale anche quella di un ristoratore, cui locale si affaccia in parte proprio in via dell'apretura. Ci piacerebbe prenderci cura di questo vicolo, dice, allestendo qui il nostro estivo. La nostra idea era quella di sfruttare questo vicolo per fare il nostro estivo in modo da dare una ripulita e nel contempo magari tenere un po' più sotto controllo questo spazio che altrimenti viene lasciato un po' così.